Asi e Cooperativa T41B ottengono il nuovo bando di gestione indetto dal Comune di Pesaro per la coprogettazione di impianti e attività sportive. Nello specifico, fino ad aprile 2025, ma con gestione rinnovabile per altri tre anni, avranno sotto la loro custodia monitoraggio il Camposcuola di Via Respighi, 5 palestre comunali come la Vecchia Carducci, Turati, Polo 3 di Villa Ceccolini, Celletta e Ledimar e 14 frappiste polivalenti e campetti di quartiere. L'Asi, associazione sportiva e sociale italiana, già attiva in una simile gestione di impianti su Fano, Valle Foglia e Macerata Feltria, si allarga su Pesaro con un bando che contemplerà anche l'attività della cooperativa T41B che già da anni era deputata a pulizia e custodia del Camposcuola. Il Camposcuola è il campo principale che è al centro di questa coprogettazione, più 5 palestre che coprono un po' tutto il territorio, inoltre abbiamo 14 piste polivalenti che sono le classiche piste del quartiere aperte a tutto il pubblico, ma per il quale ci accogliamo in qualche modo la gestione e la pulizia. E sull'attività sportiva, dove noi come Asi siamo più specializzati, al Camposcuola abbiamo già riattivato l'Educamp, che era qualche anno che era assente dal Camposcuola e questa settimana sempre sta partendo il camp sportivo di calcio della Raffaella Manieri. Sulle altre palestre in realtà ci sono già attività, intendiamo portare avanti quello che tutti gli anni veniva fatto, quindi lo stesso programma più o meno annuale delle varie società sportive, fra basket e piuttosto che ginnastica dolce e altre realtà verrà portato avanti. Quindi noi come Asi, dove magari ci sarà qualche buco negli orari, potremmo proporre qualcosa di nostro, però in realtà il nostro lavoro sarà quello di portare avanti e gestire queste attività che già erano strutturate gli scorsi anni. Noi abbiamo scelto, oltre di dare un servizio di custodia e pulizia, anche dare una vera e propria gestione, non solo quella che è il Camposcuola, ma quelle che sono le piste polivalenti e le palestre comunali. Quindi di fatto ci sarà un occhio in più sulle piste polivalenti, che sono i classici campetti di quartiere, quindi di fatto non vuol dire che quei campetti non potranno essere utilizzati dai cittadini, ma potranno essere utilizzati con un occhio in più da parte, diciamo, di una società che gestisce quelle piste per l'amministrazione comunale. Quindi una retina che è stata rotta, una staccionata che si è rotta. Quindi ci sarà chi provvede in autonomia alla sostituzione. Per quel che riguarda il Camposcuola, aumenteranno le attività che sono lì, aumenterà il presidio e la presenza delle persone che gestiranno e custodiranno quello che diciamo è il patrimonio dell'amministrazione comunale, ma è il patrimonio di tutti. Stessa cosa per gli impianti sportivi. Nel caso specifico si parla di cinque palestre che avranno una gestione diretta da parte di questo soggetto. Per l'utenza degli impianti cambierà poco o nulla al di fatto che l'accesso agli spogliatoi del Camposcuola ora richiederà la sottoscrizione di un abbonamento dalla quota annuale di circa 60 euro. Non sarà solo una gestione di impianti sportivi, ma anche un'occasione per opportunità di impiego per soggetti con disabilità o con situazioni di disagio, come previsto dalla copregettazione con la cooperativa T41B. In realtà noi potevamo anche andare a bando, ma in realtà ci siamo messi un tavolo insieme a T41, comprendendo che in realtà ci completavamo a vicenda, in quanto noi più specializzati sulla parte sportiva, loro su quella della parte sociale, borsa lavoro eccetera, più anche la parte proprio della gestione del verde e tutto il resto. Quindi sicuramente questo è un binomio importante per noi perché riusciamo a completarci e quindi ci permette anche noi che eravamo in realtà forse un po' spaventati inizialmente per questa grossa mole di impianti a riuscire ad andare avanti con maggior tranquillità.